Militari come custodi dell'arte per fare in modo che l'immateriale si concretizzi per osservare in maniera più attenta quello che ci circonda. Nella sede del comando militare dell'esercito Lombardia, Palazzo Cusani a Milano, è stato firmato il protocollo di intesa tra il comando del CME Lombardia e la direzione dell'Accademia delle Belle Arti di Brera. A fare gli onori di casa il comandante generale di brigata Alfonso Miro che ha firmato il documento con il direttore generale dell'Accademia Giovanni Jovane. Sono intervenute le docenti Elena Croci ed Elisabetta Gonzo nonché il paesaggista Antonio Perazzi. Alcuni studenti dell'Accademia hanno presentato il progetto My Green Room Open Project per valorizzare il giardino di Palazzo Cusani, perla architettonica seicentesca nel centro di Milano. Al termine dell'evento presso i locali del circolo unificato di Palazzo Cusani, il comandante Miro ha offerto una degustazione preparata dallo chef stellato Natale Giunta, accompagnata da una serie di vini pregiati della migliore tradizione italiana.